Un bambino di sei anni è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dopo aver ingerito un integratore alimentare noto come Alca Water, prodotto dalla Viveri Alcalino con sede amministrativa a San Michele Salentino in provincia di Brindisi. L'ASL Brindisi ha disposto al ritiro immediato dal commercio e richiamato l'uso di questo integratore composto da idrossido e di potassio. Il bambino ha riportato ustioni alla gola e allo stomaco poiché sembra averlo ingerito non diluito in contrasto con le istruzioni riportate sull'etichetta. Gli stabilimenti di produzione si trovano nella BAT. La stessa ASL sta conducendo accertamenti su altri prodotti commercializzati con il marchio dell'azienda Brindisina. Il provvedimento di ritiro è stato attivato dopo la segnalazione del centro antiveleni di Pavia il 26 ottobre che ha informato il Ministero della Salute, la Regione Puglia e l'ASL Brindisi in seguito all'intossicazione del bambino.